Il doppiaggio è una vita semplice da impiegato e quindi è una vita più semplice, più facile. Poi adesso ho un bambino con il quale mi dedico molto, quindi anche per lui. Il doppiaggio, niente, questo non mi sono afficinato così, a un certo punto ho iniziato a far provini, poi se a mente conoscevano tutti, ah ma tu sei figlio, ah ma tu sei... Diciamo che chi dice che non essere figli d'arte non è un vantaggio dice una grande balla, è sempre e comunque un vantaggio, questo non c'è dubbio. Lei ha doppiato Steve Buscemi in tanti film e nella serie Soprano. Tra i tanti lavori in cui lei ha prestato la voce a questo grande attore, volevamo soffermarci su tre opere, Le Iene di Quentin Tarantino, Fargo e Il grande Le Boschi dei fratelli Coen. Che ricordo ha di queste tre esperienze? Beh, dunque, diciamo sicuramente io sono molto legato a Le Iene di Tarantino, perché Le Iene di Tarantino arrivò in un momento in cui nessuno conosceva Tarantino, era un film di rottura, un film diverso, nuovo, anche come modo di girare, quindi ci colpì molto anche a noi come attori, come gente amante del cinema, Le Iene. Lì, io mi sono divertito molto, perché Buscemi è un attore che fra altre cose mi assomiglia anche molto come caratteristiche di recitazione, quindi mi sono andato appresso con molta facilità. Mi sono sempre divertito a farlo, lui è un attore molto bravo, molto poliedico, molto... e quindi sicuramente, ecco, sono più legato a Le Iene, però sicuramente anche Fargo e anche Le Boschi, poi i fratelli Coen sono veramente particolari, insomma. Passando invece dal cinema, al cinema d'animazione, lei ha doppiato per la Disney, oltre a Pimpi in alcuni film, in una serie di Winnie Pooh, i fratelli Willy in Mucche alla riscosse, la Lucertola Frank in Bianca e Berni nella Terra dei Canguri, Valvola di Tailspin, come è stato per lei doppiare questi personaggi, quindi passare appunto dal cinema in carne ed ossa al cinema d'animazione? Ma quello fa un po' parte, quello è il nostro lavoro, noi è capace che alle nove facciamo un turno di un film, appunto, dei fratelli Coen, poi l'uno e mezza vai a fare un Disney, diciamo, quindi siamo un po' abbastanza abituati a fare determinate cose diverse, insomma, nell'arco della giornata. I cartoni animati sono la cosa più faticosa che ci sia da fare, perché nei cartoni animati bisogna caratterizzare, caratterizzare, cambiare la voce, spesso bisogna sempre urla, strigli, sono faticosi, i cartoni animati sono faticosi, però sono molto divertenti, ecco, insomma, io adesso per esempio lo faccio proprio con Danilo, che girolo con poi, e questo professore pazzo con questo accento tedesco in questa serie, dove io mi diverto come un matto, certo è faticosissimo, ci lascio quintali di polmoni ogni volta lì sul leggio, però è molto di soddisfazione. Passando dall'altra parte, quindi, del microfono, quindi... Dalla direzione. Sì, prima, nella sua incursione attoriale, lei ha recitato con suo padre Nino D'Alfabro nello sceneggiato Ritratto di Donna Velata, con Daria Nicolodi e Nino Castelnuovo. Cosa può raccontarci di questa esperienza dall'altra parte? Cosa vi posso raccontare? Perché noi avevamo 19 anni, credo, io ancora non facevo l'attore, io semplicemente servivano dei ragazzi, c'era una festa, d'altra cosa che il padrone della festa era Maglio De Angelis, che è anche un famoso doppiatore. E allora Flaminio Bollini, che mi conosceva da ragazzino, mi disse, ah perché non vieni con il tuo amico, non sogniamo, fate una cosa, qualcosa così. Quindi diciamo che la mia partecipazione a Ritratto di Donna Velata è stato molto... Ancora nemmeno facevo l'attore in realtà, insomma, ecco. Lei però, oltre a prestare la voce, è anche direttore del doppiatto. C'è un lavoro alla direzione a quale è particolarmente legato? Ma guarda, il nostro lavoro è un po' così, nel senso tu ti leghi al prodotto finché lo fai, nel momento in cui il prodotto l'hai fatto l'abbandoni e non te ne occupi più tanto. Quindi diciamo che ti affezioni anche a dei film bruttissimi a volte, nel senso che tu devi cercare sempre di farli al meglio, anche se il film è brutto, però tu devi rendere un prodotto che sia il più vicino possibile all'originale. Quindi diciamo che no, è difficile che ci sia una legatura così forte a un prodotto, almeno a me non è capitato, ecco. Signora Fabbro, noi la ringraziamo e da ultimo le chiediamo di mandare un saluto a tutti gli utenti del mondo dei doppiatori.it. Ma io mando un saluto molto lentiero a tutti gli utenti del lavoro del doppiaggio.it. perché quando io ho iniziato questo lavoro il doppiaggio si faceva nelle cantine, si faceva, era un po' come vivere nelle cantine, al buio, in questi sottoscala, mentre adesso il doppiaggio è una grande rinomanza, quindi grazie, grazie a tutti quanti, leggete, leggete e tanti saluti. Ciao, presto, arrivederci.